Sì, è uguale così, hai visto che il figlio deve richiamare e mi fa lozzare? Ok, con la barra stai sul lato destro, con la barra tieni un po' così, con la sinistra non devi potenzializzare, non devi andare sul giro, un po' di potenzializzare devi dare, fino a che sono tesi, devono essere tesi i cari per lavorare. Sì, è uguale così, hai visto che il figlio deve richiamare, non devi potenzializzare, non devi potenzializzare, non devi potenzializzare. Sì, è uguale così, hai due tre manone qui, servo per l'altro, in acqua ancora si trova gente, lì c'è il marcello, adesso c'è poi il campanile, non c'è il campanile, non c'è il campanile. WICI è il personal training unit. Cosa è? È un negretto che vende le borne. E' una casata, prova dai, non spacchi niente. hai detto di sci